Douglas, Douglas la scavallata, Douglas la mette dentro, troppo morbida, troppo prevedibile Invezione, Ninja, da fuori! Il Ninja! Da fuori! 2-0, Raja Lengolan! Al trentaduesimo! Che s'abbongia da fuori, il Ninja! 2-0 leggenda! Mamma mia! Papu di prima, fuori per il Ninja, non lo pressano! E lui tira ovviamente, s'abbongia sotto il set! E con l'inrovesciata! E con l'inrovesciata! 3-place! Matu ID! Inrovesciata! 5-0! Inrovesciata! Matu ID! Inrovesciata! Incredibile! Matu ID! Inrovesciata! Matu ID! Inrovesciata! 5-0! Mamma mia! Matu ID! Inrovesciata! Matu ID! Inrovesciata! Matu ID! Inrovesciata! Manità! Scala reale! Press 4-2! Un problema con l'uscita del portiere! Quadrado! Un gol! Fazzesco! Di Guam! Di Iermo! Quadrado! 2-0! La doppietta! Con la mossa del Lucino! Si libera! Di Manolas! E chiude! Nezzette! A questo splendido gol! Mamma mia! Guarda Migliarbo Quadrado! Olè! Olè! 2-0 con i lag! Così! Palla in bassa! Il gallo! Il gallo! Col pallo lenta! Rente! 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 Pocche! 4-3! Il gallo Melotti! E tutta la panchina! E la risolve! Oh mio Dio! Con un cipom! Semplicemente un volvo! 4-3! Un cioccolatino! Un cioccolatino questo cipom! Una partita in cipom! Pori Sceva dentro Quadrado! Pori Pertici dentro KK! Giocatore che si era richiamato in panchina! Sceva dentro KK! Prova ad andare! Daglas! Costa! 4-2! Poker! Poker di Daglas Costa! Tripletta! Ombrellino all'on drink! A trick! Di Daglas Costa! Poker della Pistogliese! 4-2! Primo gol su calcio in funzione per Mr. Kampersa Medina! E adesso è lui! Standing ovation! Al posto di Marco Sau! Viva in terribile! Probabilmente sarebbe stata un'occasione vincente! Squadra di casa che sta giocando con una linea difensiva molto alta proprio per utilizzare con frequenza... Buona rinconizione qui! Mare! Chiaro! Con il Cipam! 3-0 al sessantaduesimo! Doppietta! Che azione! Che azione! Che azione! Forse anche Redskuita! Che azione Redskuita! Meravigliosa! Constanso!